Buonasera ai nostri cari ascoltatori e spettatori di Punto e Virga. Questa sera cogliamo l'occasione per proseguire con le nostre dirette, anche diciamo con un ritmo abbastanza marcato, visto che fortunatamente richiedono relativamente poco sforzo e al tempo stesso ci consentono di portare ai nostri amici ogni volta qualche nuova idea, qualche nuovo volto, insomma qualcuno che almeno non vedete soltanto la mia faccia ma ogni tanto c'è anche qualcun altro con cui interagire e in particolare stasera, visto che tra pochi giorni, venerdì per l'esattezza, cadono i 25 anni dalla morte di Ernst Jünger, filosofo, scrittore tedesco e non solo, diciamo un po' di tutto. Io adesso per raccontarlo proprio in pochissime parole è una persona che non lo conosce legittimamente perché purtroppo è un autore grandissimo ma che ancora non è particolarmente noto specialmente almeno in Italia, in Germania naturalmente è una figura già molto, ma poi quello parleremo eventualmente, dello Jünger oggi in Germania, ma sostanzialmente è un autore che a volerlo definire brevemente direi guerra di trincea, allucinogeni, entomologia, filosofia della tecnica, resistenza antinazista, letteratura di viaggio e tante tante altre cose. Questo è stato Ernst Jünger, una vita che è durata cent'anni abbondanti, è morto infatti il 17 febbraio del 1998, era nato il 29 marzo del 1895. Per poco non è arrivato al centotresimo compleanno. Si è spento comunque serenamente, come si suol dire, a quell'età insomma vorrei ancora vedere che si lamentasse e tra l'altro conducendo una vita piena, serena, nonostante avesse attraversato le tempeste d'acciaio, per citare la sua opera del ventesimo secolo, ancora le testimonianze che abbiamo anche audiovisive, che poi in particolare nel suo centenario era stato seguito dai media, dalla televisione tedesca, quindi abbiamo modo di constatare come sostanzialmente fosse invecchiato molto molto bene. Una figura che ha attraversato tutto il Novecento e con il Novecento ha portato tutte le contraddizioni di questo secolo con se. Quindi sicuramente è un autore che per me poi ha un'importanza particolare e tra l'altro io ho qua il nostro ospite, Luca Siniscalco, quale tra le mele cose è docente di filosofia e in particolare di estetica, quindi scegliendo questo importante anche sguardo sul mondo della filosofia, tra l'altro collaborando anche con personaggi di spicco, in particolare all'interno dell'Università degli Studi di Milano, penso a Stefano Zecchi, penso anche a Davide Bigalli, se non sbaglio, con cui ha avuto modo di lavorare, di seguirmi le lezioni, e poi anche saggista, anche scrittore, riviste, allora io conosco prima di tutto Antaresse, ma anche su altre pubblicazioni, molte le quali tra l'altro non conoscevo nemmeno, quindi è sicuramente un autore di spicco e io entrerei subito nel vivo perché vedo che stanno arrivando i nostri ascoltatori per partire con un ricordo personale e poi rilanciare in realtà, perché la domanda, qui risponderò io adesso e risponderai tu, è che cosa si c'è, perché Junger è così importante, diciamo, io devo dire che è un autore che ho conosciuto per vie un po' col passaparola, nel senso erano autori che, in cui sono venuto a conoscenza, perché erano autori che venivano affibbiati, diciamo, a una determinata area, a un determinato ambito politico, stesso magari in maniera molto affazzonata, perché se uno va a vedere un articolo in cui, della stampa, di quando avevo 17 anni, in cui ovviamente mettevano insieme Tolkien, Spengler, Evola, Junger, un po' un pastone, però io poi sono andato a vedere molti di questi autori, perché all'epoca naturalmente internet non era ancora così diffuso, naturalmente, e Junger lo lessi subito, cominciai con alcune opere, credo che la prima in assoluto fu il trattato del ribelle, poi passai, ovviamente, diciamo, non ho letto tutto Junger, perché poi l'opera completa, sono 22 volumi, anche, tanto sarei anche interessato, il problema fondamentale è quello che mi trattiene, che poi sarebbe un problema trovare un posto dove metterle, perché comunque si tratta di, diciamo, un'opera anche di un certo peso, 11.700 pagine, quindi l'edizione cletcotta completa sono 11.700 pagine, quindi possiamo fare i nostri conti, e poi comunque è un autore su cui ho dedicato anche parte dei miei lavori di studio all'università, presso la scuola normale superiore, ho portato un colloquio proprio su Junger come lettore di Nietzsche, in particolare Junger come recepisce lo Ubermensch, il superuomo, all'interno dei suoi tipi antropici superiori, come l'operaio, per esempio, la NARC, e poi chiaramente mi è capitato di studiare e anche leggere le sue opere, anche quando ero in Germania, e arrivando a visitare, è stata un'esperienza molto interessante per me nel 2011, la sua casa di Wilflingen, dove appunto anche lui lì vicino nel locale cimitero di Campania è sepolto, con le mogli e i figli, e quindi, diciamo, anche vedere da vicino poi quella casa, l'eremo della ruta, che è stato poi la sua dimora, anche il centro dei sui studi, del suo lavoro, e per l'ultimo mezzo secolo di vita, dal 1950 in poi, quindi, diciamo, ha trascorso 48 anni tra quelle mura, non propriamente poco, è un'intera esistenza per altre persone. Quindi sicuramente è un autore che mi è rimasto molto nel cuore e ha avuto sicuramente un'influenza, magari non un'influenza forte come qualche altro autore, però sicuramente è tra gli autori che vedo come un punto di riferimento, sicuramente a livello intellettuale, anche per la sua politicità, per il suo atteggiamento anche molto sereno, ecco, tendenzialmente anche come stile, diciamo, come figura. Tu invece, Luca, come è venuto un po' questo incontro con Jung? Io prima di rispondere ti ringrazio per l'invito a questo incontro che ritengo essere molto importante proprio per ricordare, con tutti i nostri limiti, ma diciamo in maniera degna, questo autore che è stato per me un pilastro della mia formazione ed è, al di là di questo aspetto personale, biografico, è un personaggio che a mio avviso offre ancora degli strumenti intellettuali fondamentali per analizzare il nostro tempo e anche per provare a scorgere qualche ombra del futuro. E quindi benvengano iniziative di questo genere. Saluto gli ospiti e inizio anch'io a partire, diciamo, da un breve riferimento biografico legato alla mia scoperta di Junger in età forse un pochino più avanzata di quella di Andrea. Io ricordo che le prime letture, e se non erro, anch'io ho approcciato Junger proprio a partire dal Trattato del Ribelle, sono cominciati in epoca, i primi anni dell'università, quando mi ero molto interessato all'interno del contesto accademico alla figura di Nice e attraverso letture e studi privati alla figura di Evola. Il nome di Junger emergeva nel contesto degli studi evoliani e l'ho facilmente, diciamo, rintracciato come un autore strettamente legato da un punto di vista culturale di sensibilità a Nice, come un po' peraltro tutta la rivoluzione conservatrice. E lì quindi è nata questa scoperta che continua ad accompagnarmi. Il fascino di Junger, da un punto di vista biografico, l'hai già, in maniera molto sintetica ma efficace, evidenziato. La vita di Junger, che il suo biografo principale, Aymosh Wilk, ha definito una vita lunga un secolo, così titola la sua opera, è un compendio estremamente affascinante della storia del Novecento. Dalle radici problematiche ottocentesche di questo secolo alle sue propaggini ultime, perché nel Tardo Junger si trovano riferimenti molto affascinanti, talvolta espressi con un linguaggio molto criptico, molto enigmatico, anche a delle problematiche e a delle figure della cultura, della società, anche della tecnologia, che si sono poi affermate nel nuovo millennio. Penso al tema del digitale, che ad esempio in Junger non è mai tematizzato in maniera esaustiva, ma è riferito in alcune delle sue riflessioni più tardi. O il tema del nichilismo, che ovviamente è un tema già novecentesco, ma di cui Junger vede la lunga onda fino al nuovo millennio. Junger in particolare, se dovessi provare dal mio punto di vista a proporre un'immagine sintetica per evidenziare questo suo valore propositivo, al di là delle sue specifiche competenze nei singoli campi, molti dei quali li hai citati, Junger grande scrittore, narratore, Junger intellettuale dal piglio filosofico, Junger diarista. C'è però un aspetto che particolarmente mi ha colpito, quello che mi porta a identificare Junger come uno di quegli autori che in maniera, a mio avviso, più efficace è riuscito a vivere a pieno, sia in termini biografici che intellettuali, la modernità novecentesca, essendo protagonista delle principali svolte, dei grandi eventi storico-culturali che hanno caratterizzato quest'epoca, ma con uno sguardo sempre critico, alternativo, potremmo dire, per usare un'espressione che viene da un testo di Geminello Alvi, un grande eccentrico del novecento. In questo senso la sua opera offre un po' in tutti gli ambiti citati degli strumenti per ripensare le modalità dell'uomo contemporaneo di abitare il nostro mondo, e di farlo però in un'ottica fortemente costruttiva, propositiva, e con quella serenità, diciamo, etica che è emersa anche nella presentazione di Andrea, che lo rende un personaggio anche, come dire, dal forte valore pedagogico, a mio avviso, pur nei suoi eccessi, in alcune dimensioni di, appunto, extra-normalità della sua vita, penso al conflitto, così come all'utilizzo di sostanze psicotrope che è stato citato, Junger ha sempre ricercato una condotta che, nelle sue intenzioni, in questo era molto niciano, riuscisse a unire etica ed estetica, a portare quindi uno stile di comportamento molto individuale, personale, ma radicato in un senso di appartenenza, di tradizione. In questa prospettiva possiamo, magari, proseguire questo dialogo approfondendo degli aspetti più specifici della sua opera, tenendo presente che, ecco, questa è un po' la mia globale visione sull'autore, talvolta nella letteratura critica o in generale nel commento all'autore, si è messo molto in luce una differenza, diciamo, fra due macrofasi della produzione jungheriana, della sua esperienza biografica. Una prima fase, quella legata all'esperienza della guerra, al testo nelle tempeste d'acciaio e poi alla riflessione sulla tecnica precedente alla, diciamo, intercorsa fra le due guerre mondiali legata in particolare all'opera, all'operaio che rappresenterebbe uno jungher particolarmente volontaristico, molto niciano, fautore di un nichilismo attivo e di una filosofia della tecnica rivoluzionaria contrapposto, comunque radicalmente differenziato da uno jungher maturo, diciamo, successivo alla seconda guerra mondiale molto più attento al tema della natura, con uno sguardo molto più contemplativo e in alcuni tratti come nella celebre figura dell'anarca da lui evocata anche portatore di una visione un po' di evasione dalla realtà, dall'impegno politico. Ecco, nella mia visione se alcune di queste linee sono sicuramente diciamo presenti nell'opera di Junger è però più interessante provare invece a evidenziare l'unità del suo percorso intellettuale che sicuramente attraversa vista anche la lunghezza della sua esistenza e i fruttiferi incontri biografici con grandi intellettuali una trasformazione, un'evoluzione ma in un segno che nella mia lettura è animato da una forte continuità. Junger in questo pur non essendo assolutamente ovviamente catalogabile da un punto di vista di storia delle idee nella corrente tradizionalista ha però una comprensione molto vitalistica e per nulla diciamo per nulla statica della tradizione intesa come risposta metamorfica trasformativa di una medesima fiamma che però nelle diverse epoche delle civiltà e della vita dei singoli uomini diciamo assume degli sviluppi diversi in base alle circostanze e ai problemi che si pongono e così anche lo sguardo di Junger mi pare abbia attraversato così tanti domini dell'esistenza proponendo soluzioni e problematizzazioni spesso diverse fra loro ma animate da questa forte identità se colto mi trovi assolutamente d'accordo poi anch'io in effetti chiarisco che ho cominciato a leggere Junger dai primi anni di università ma anche perché non è che un autore diciamo i cui testi si trovassero più di tanti in biblioteca di provincia questo naturalmente poi alcuni acquistati altri insomma mi ricordo ancora la biblioteca del dipartimento di lingue e letterature straniere a Pisa che ha l'opera completa ancora nell'edizione quella cartonata che ormai è esaurita adesso la cletcotta ha ristampato l'opera completa ma tuttavia in brossura quindi meno più economica naturalmente però non è la stessa cosa e non ha lo stesso impatto però chiaramente mi trovi assolutamente d'accordo sul fatto che Junger che ovviamente ha avuto la sua maturazione ma poi ovviamente è invecchiato con il novecento ma l'ha visto in realtà come sostanzialmente un autore abbastanza unitario per cui l'idea che Junger diciamo dopo una gioventù molto più militante molto più guerriera molto più impegnata politicamente sia diventato sostanzialmente un pacifista un naturalista l'idea che troviamo mi sembra che lo stesso Evola in alcune lettere parlando di Junger durante nel dopoguerra dice che sostanzialmente trova più interessante lo Junger precedente e tende un attimo a sminuire lo Junger post bellico però sostanzialmente anche a me pare che gli elementi di continuità prevalgano partire dal fatto che per esempio l'interesse per la natura l'interesse entomologico lo troviamo fin dall'inizio già in trincea lui raccoglie insetti coleotteri e negli anni venti che lui viene a condurre studi naturalistici a livello universitario tant'è vero che cercherà a Napoli alla stazione geologica che ancora oggi è uno dei centri d'eccellenza nel Mediterraneo in particolare per gli animali marini così come il fatto che cioè il fatto che lui non abbia più combattuto nessuna guerra dopo il 45 perché banalmente in Europa fortunatamente non ci sono stati altri conflitti di questo tipo ma non vedo il suo approccio da anarca come sostanzialmente un cedimento Junger ha partecipato per dire almeno politicamente se vogliamo parlare dello Junger politico da dove Junger non è mai stato politico nel senso di partecipazione diretta ma la sua partecipazione alle celebrazioni per i 75 anni eh i 75 anni di Verdun nell'81 quindi con Cole e Mitterrand anche stati due importanti personaggi della storia francese tedesca la secondo novecento non va vista in maniera diversa dal fatto di essere stato decorato eh dalle autorità imperiali o dal suo rapporto conflittuale tanto con la repubblica di Weimar quanto con il Reich nazionalsocialista quindi chiaramente sempre una figura uno Junger che si interfaccia con il potere in un certo senso sempre da pari a pari anche se all'atto pratico lui era un singolo cittadino e dall'altra parte ovviamente aveva l'intero stato però eh l'idea appunto di questa di uno Junger dimezzato di uno Junger eh placato è in realtà ingannevole perché diciamo anche ritirarsi ma lo vediamo anche con altri autori un Van Eyre per esempio che ha trascorso gli ultimi decenni a occuparsi essenzialmente di eh di sui studi quindi di eh letteratura di saggistica non per questo era meno militante quindi su questo sono assolutamente d'accordo e io partirei anche diciamo seguirei un filologico in realtà abbastanza legato alla cronologia degli eventi perché poi su Junger potremmo dire tantissime cose ma proprio per quello per evitare di perderci troppo in questo labirinto io partirei dall'inizio nel senso che un primo grande è una grande esperienza per Junger oltre all'avventura Junger diciottenne che si arrola nella legione straniera e poi si decide abbandona il suo posto per cercare di raggiungere il centro dell'Africa però la prima vera grande esperienza è quella della guerra la guerra di trincea e oggi questo è una cosa che un anno fa non avremmo trovato altrettanto interessante perché oggi effettivamente noi abbiamo di nuovo ovviamente su scala minore ma una guerra di trincea in Europa con modalità in molti casi che qualcosa che non era non si era mai visto perché anche i conflitti per esempio nella dissoluzione di Jugoslavia avevano caratteristiche già differenti invece quello che noi vediamo attualmente sulla linea del fronte nel Donbass per esempio ci sono foto provenienti per esempio da Wachmut piuttosto che da altri punti del fronte che rimandano a quello che è stato il 14-18 queste trincee nel fango e nel gelo con gli uomini schierati con un tasso di mortalità che vabbè ovviamente è lontano da quello del 14-18 ma che rimanda a tratti a questo tipo anche di sconto di esperienza quindi questo è interessante perché poi ormai questo è sicuramente un autore che è conosciuto da entrambe le parti proprio perché poi Unger è diventato anche un autore simbolo per i nazionalismi europei in un certo senso quindi non dubito che ci siano giovani russi e giovani ucraini che qualcosa di Unger hanno letto e che adesso si trovano nel nel fango a spararsi addosso tra l'altro una serie di motivazioni che non esploreremo in questo contesto se no apriamo tutto un abbiamo l'esperienza umana che ci interessa dal punto di vista dell'esperienza umana i soldati di entrambi i fronti tendono a essere in un certo senso affatellati la guerra mondiale che non era ancora una guerra ideologica pur essendo già una guerra di materiali ci rimanda a questo discorso non so se cosa pensi in materia questo tema che hai sottoniato mi sembra molto importante Unger che poi è stato molto amato nei circoli patriottici tedeschi nei decenni successivi con un processo anche in una certa misura di ideologizzazione della sua opera in realtà scrive nelle tempeste d'acciaio questa grande narrazione questa grande epica della grande guerra con un'attenzione quasi interamente votata proprio alla diciamo fenomenologia dell'esperienza del conflitto se leggete il testo trovate pochissimo di quasi nulla direi di politico nel senso di valutazioni legate a specificità geopolitiche del rapporto fra ideologie partitiche e il conflitto l'attenzione dello sguardo jungheriano è tutta volta alla comprensione a partire dalla sua esperienza ma anche dal confronto con i suoi commilitoni di quello che la guerra innesca nella coscienza umana e la grande intuizione di jungher che ha avuto grande successo e ha reso popolare la sua opera oltre diciamo la qualità narrativa di questo testo che è piuttosto avvincente è legata all'idea che la prima guerra mondiale pur ovviamente conservando alcune delle caratteristiche generali del conflitto della guerra dello scontro ma si sviluppi secondo delle linee del tutto nuove legate proprio direi a due i concetti sono più di questi ma a due parole chiave una è già stata evocata la guerra dei materiali quindi legata all'aspetto tecnologico nuovo della grande guerra e poi un altro concetto su cui Jünger scriverà uno splendido saggio che è in tedesco di totale mobil makung cioè la mobilitazione totale la cosa interessante è che Jünger e la sua opera successiva alla grande guerra svilupperà tutti questi temi ravvisa una perfetta identità fra questi processi che nati nelle tempeste d'acciaio della grande guerra e i processi sociali culturali e tecnici che poi i soldati una volta terminato il conflitto dal fronte portano nella società civile la mobilitazione totale nasce nelle trincee ma diventa poi lo stile dell'operaio che di cui parlerà Jünger ossia il modo di mobilitare la società quella società moderna nuova nata diciamo a partire dalla visione del cadavere del mondo borghese che secondo Jünger si stava consumando e su cui si sta fondando appunto un mondo nuovo quindi la forza narrativa di Jünger parte dal pathos letterario di Nelle Tempeste d'Acciaio dove questi temi non sono trattati in termini saggistici ma sono dispiegati come sentimento del soldato o meglio del guerriero che in qualche modo sviluppa un nuovo modo di essere un nuovo stile di esistenza nelle trincee perché questo è un po' uno dei temi jungheriani in una certa misura muore come individuo e nasce come soldato come guerriero senza volto all'interno di questo nuovo corpo vivente che è l'esercito moderno esercito novecentesco e in questo senso l'identità individuale su cui si era fondata la società borghese tracolla l'uomo diventa indossa un uniforme che diventa la sua identità e si prepara un nuovo tipo di relazione fra il singolo e i molti e fra le civiltà e questo tema che dicevo appunto nelle tempeste d'acciaio ha una silhouette narrativa viene poi analizzato in maniera molto sistematica negli scritti successivi di jungher fino a trovare appunto la teorizzazione forse più completa nell'operaio e il primo testo che ho sempre trovato molto appassionante in cui già si intravedono in forma più abbozzata però quasi tutti i temi dell'operaio ma in un contesto di guerra è la battaglia come esperienza interiore un saggio che jungher scrive pubblica nel 1922 quindi è quasi coevo e di poco successivo nelle tempeste d'acciaio in cui torna ad analizzare l'esperienza della guerra ma in termini più teorici seppure con una scrittura molto potente molto lirica molto affilata e ci parla di questa intuizione della comparsa di questo uomo nuovo che all'interno di questa nuova fenomenologia dell'esperienza segna in qualche modo un passaggio epocale e questo è un altro tema ma più in generale direi proprio un modo di una sensibilità nei confronti dell'analisi della cultura della storia che si trova più riprese in junger lo lega molto al generale agli autori della rivoluzione conservatrice al tema già niciano dell'interregno l'idea che il problema della crisi dei valori legata al nichilismo abbia squadernato un'epoca di passaggio di transizione che deve compiersi per favorire l'avvento di qualcos'altro e tutta l'opera di junger da un certo punto di vista potrebbe essere letta come un tentativo di pensare a questo qualcos'altro che si sta preparando cogliendone le apparizioni nei diversi domini dell'esperienza dell'uomo della storia con i diversi strumenti forniti da tutte le discipline che lui maneggiava qui nella guerra ecco questo ovviamente un particolare biografico che stavo dando un po' per scontato ma è giusto citarlo per chi magari non conoscesse l'autore junger si comporta diciamo da eroe nel senso che vive numerosi scontri militari lui aveva junger combatte in particolare sul fronte occidentale viene ferito 14 volte e nel 1917 riceve la decorazione della croce di ferro per poi ottenere nell'anno successivo la più alta decorazione militare tedesca che è l'ordine pur le meritte ecco che quindi la trasposizione letteraria che poi renderà famoso junger e lo renderà anche un autore di riferimento come dicevamo per il mondo diciamo patriottico tedesco trova la sua referenza diretta nella biografia dell'autore che non si limitava a inventare storie ma le visse peraltro una nota di così di a margine dato che anche io amo molto Tolkien e prima è stato evocato come un autore diciamo di riferimento ecco per un po' per anche per un mondo chiamiamolo genericamente conservatore e a me è sempre affascinato pensare ecco che i due autori fossero diciamo coinvolti ecco in questo grande conflitto ovviamente su fronti opposti e quanto ovviamente con gradazioni diverse però il conflitto l'esperienza della grande guerra della morte ma anche dell'eroismo abbia impattato poi sulla loro produzione letteraria Tolkien partecipò alla se non erro alla battaglia di Verdun e no erano tutte e due sulla Somme nell'estate del 16 quindi si trovano proprio anche in un contesto che è il grande traumo per l'esercito milanico Tolkien perde quasi tutta la sua classe del liceo lui stesso si salva perché si ammala rimane convalescente e nella convalescenza inizia a scrivere di elfi di draghi a fornire delle storie per le lingue che aveva inventato quindi erano di fronte praticamente poi ovviamente abbiamo di centinaia di migliaia se non milioni di uomini coinvolti ma non erano Verdun erano proprio più a nord questa ecco si è sbagliato perché Tolkien stesso contestava una lettura diciamo allegorica del suo lavoro però invece pensare che in qualche modo quei paesaggi e quelle esperienze in qualche modo ne abbiano forgiato una certa sua sensibilità rispetto poi a un tema come quello del conflitto e del del carattere diciamo di banco di prova che la guerra può rappresentare per l'uomo che è centrale nella sua opera nel Signore degli Anelli è sicuramente possibile e interessante beh poi tra l'altro prima avevi evocato il giudizio di Evola che pure è un tema interessante però magari ci possiamo tornare dopo se c'è interesse ecco senz'altro ma io rimarrei per esempio anche sul sul fatto che c'è Junger subito diciamo un punto che viene magari a volte sottovalutato ma l'hai detto bene che lui coglie subito la natura della guerra moderna come guerra di materiali e ci siamo anche oggi perché oggi il grande tema sono i materiali perché si è scoperto che una guerra vera come quella attuale tra Russia e Ucraina consuma una quantità di materiali allucinante al punto che gli stessi paesi occidentali scoprono che non sono reparati per un simile consumo di materiali i nostri piccoli eserciti professionistici non sono fatti per questo tipo di scontro i nostri 200 carriariete dell'esercito italiano durerebbero forse un mese sul fronte ucraino anche meno addirittura la nato recentemente si è posto il problema del consumo di munizioni da parte ucraina che sarebbe superiore alle capacità attuali di rifornimento proprio a livello produttivo Jung era subito colto ovviamente perché nella primavera mondiale abbiamo veramente una realtà nel giro di pochi mesi il fordismo entra repotentemente in tutte le potenze coinvolte e quindi diventa subito una grande espansione dell'apparato produttivo un mondo nuovo e lui coglie dalla trincea fino a arrivare a quella vera e propria capolavoro che è l'operaio preceduto giustamente è citato la mobilitazione totale che diventa appunto cioè riflette qualcosa che è che esprime la dualità dell'esperienza per la guerra mondiale cioè la grande macchina della guerra è la grande macchina dell'industria per cui il mondo diventa diviso tra la trincea e la fabbrica addirittura le donne cominciano a entrare in fabbrica cosa che fino ad allora era meno diffuso ma con la prima guerra mondiale e poi con la seconda ancora di più quindi Jung a questa cosa la coglie molto bene e coglie subito il dualismo del rapporto tra il soldato e l'operaio e se uno lo guarda dal punto di vista politico io lo trovo abbastanza geniale perché effettivamente il soldato e l'operaio noi nei primi anni venti nel periodo delle rivoluzioni bolsheviche li troviamo in teoria su due fronti diversi perché almeno in Italia c'è una contraposizione molto forte tra l'operaio comunista del bienio rosso e il reduce che diventa squadrista fascista sempre durante il bienio rosso e poi negli anni successivi non c'è nel caso italiano poi sono proprio due figure già durante la guerra l'operaio era un imboscato dal punto di vista del soldato in trincea e il soldato era un guerra fondaio perché magari era il volontario il giovane volontario borghese infatuato di dannunzianesimo e anche in altre realtà in Germania Salomon esprime questo anche vera e propria ripulsione che lui prova verso i marinai insorti del che hanno abbracciato la rivoluzione comunista e invece Junger riesce a superare questo lui riesce a cogliere a capire che in realtà il soldato e l'operaio sono due facce della stessa realtà questo secondo me è un punto infatti Junger è davvero un nazional bolshevico tra la fine degli anni 20 e inizio degli anni 30 perché lui frequenta quegli ambienti è un bel un bel tema è un tema molto complesso secondo me sia a livello biografico che propriamente ideologico filosofico perché in quegli anni diciamo anzi in alcuni mesi direi Junger sicuramente ha una significativa evoluzione di vedute rispetto alla politica tedesca ci sono diciamo delle dichiarazioni in cui Junger manifesta Junger che collaborava alla rivista fondata da Ernst Nikesh Widerstand manifesta una diciamo palese chiara ammirazione per il nazionalsocialismo che diciamo ravvisa anche proprio per questa diciamo dualità di nazionalismo e attenzione alla dimensione sociale come un possibile come dire fratello gemello del nazional bolshevismo ma questa posizione dura veramente pochissimo adesso non ho in mente esattamente gli estremi ma sono testimonianze che durano qualche mese perché ben presto Junger diciamo approfondendo meglio l'ideologia del movimento e in particolare la figura antropologica di Hitler che lui tendeva in buona compagnia con Nikesh a ritenere detestabile proprio da un punto di vista come dire morale umano inizia a lavorare diciamo un pensiero molto più critico e di distanziamento con il nazionale il bolshevismo di Nikesh vi è un significativo legame biografico legato appunto alla collaborazione dei due all'amicizia dei due e anche diciamo al mutuo scambio intellettuale e un altro dato importante è che Nikesh è stato probabilmente il primo autore a interpretare in maniera diciamo valida la teoria jungheriana dell'operaio che invece era stata molto fraintesa da altri grandi intellettuali dell'epoca di orientamento rivoluzionario conservatore che però avevano letto questa il tema dell'arbeiter del lavoratore e questa posizione diciamo attenta al superamento anche da un punto di vista socio-economico della borghesia da parte di jungher come un avvicinamento al marxismo quindi criticando la posizione jungheriana Nikesh invece è autore di in particolare due interessanti saggi che fra l'altro mi permetto di citare che abbiamo tradotto con l'editore Bietti in piccolo volumetto che è questo qua a mia cura che è uscito nella collana minima letteraria due articoli apparsi entrambi su Widerstand nel 31 e nel 32 che sono delle note a margine dell'operaio in cui propone un'interpretazione che per quanto estremamente diciamo sintetica e oggi sicuramente come dire integrabile con altre fonti ma è molto corretta perché Nikesh coglie in primo luogo la distinzione fra la centralità della figura dell'operaio nella struttura di pensiero marxiana e marxista rispetto alla visione jungheriana in cui l'operaio come chiarisce subito Junger non è una figura non è tanto una figura sociale quanto è una forma dice Junger o un tipo e quindi è una dimensione impersonale che poi agisce sul piano antropologico e quindi ovviamente crea anche una categoria diciamo all'interno della società ma che non è legata specificamente a un determinato tipo di professione e quindi come nel caso del marxismo diciamo alla subordinazione rispetto alla classe dominante capitalistica ma è proprio una forma che goetianemente agisce modellando l'uomo e facendogli superare la sua identità individualistico borghese e plasmandolo in un senso di nel senso di una persona come maschera come tipo umano aperto in senso orizzontale e verticale e Nikisch coglie bene questa centralità del lavoro connesso alla tecnica come quella forza che sta mobilitando il mondo e che sta sviluppando un nuovo tipo di figura umana la tecnica ha detto Junger che è il modo in cui la forma dell'operaio mobilita il mondo e Nikisch coglie bene questo aspetto ad esempio ecco giusto un passo brevissimo nota come il tipo di cui trattiamo in questa sede è l'uomo dell'era tecnica il suo volto si profilava già nei tratti duri e netti del soldato degli ultimi anni di guerra tra i combattenti di materiali e di macchine ciò che ha lasciato dietro di sé appartiene già oggi al paesaggio romantico in quelle distese irreali è contenuto tutto il borghesismo ecco quindi a mio avviso è possibile ravvisare una forte affinità filosofico culturale poi c'è anche il piano strettamente politico e geopolitico l'orientamento nazional bolshevico come è noto promuoveva la cosiddetta Ost Orientierung cioè l'orientamento a est quindi auspicava un avvicinamento della Germania al mondo russo sia per una serie di ragioni strategiche e culturali ma anche evidentemente per una possibile convergenza della prospettiva del marxismo slavo quindi della visione sovietica in funzione diciamo anticapitalistica e anti-occidentalista ecco questo tema penso che potrebbe essere approfondito negli scritti coevi di Junger per comprendere quanto la sua posizione recepisse o meno questo tema che poi sappiamo Junger invece diciamo supererà nel secondo dopo guerra assumendo una posizione più vicina a quella di molti altri conservatori o tradizionalisti molto evoliana da questo punto di vista parlando insomma del totalitarismo sovietico e del totalitarismo liberale occidentalista come in qualche modo due forze espressioni della modernità e ugualmente distinte dallo spirito della tradizione europea poi sono considerazioni che abbiamo anche un altro autore tra l'altro suo amico personale nonché suo commentatore che è Martin Heidegger che anche lui alla fine arriva a nonostante Heidegger avesse mantenuto comunque un atteggiamento possibilista positivo e a tratti anche non senza un certo entusiasmo verso nazionalsocialismo ma anche lui alla fine arriva a un giudizio che coinvolge tutto il fenomeno del totalitarismo o meglio del regime di massa volendo usare questo termine volendo metterci dentro anche poi quella che è la democrazia di massa occidentale e tra l'altro adesso io ho provveduto a notare come sostanzialmente con Junger è comunque un personaggio che è già da vivo c'è già nella prima parte della sua vita è già un'icona politica perché di fatto con le sue opere particolare le tempeste d'acciaio è un testo che lo rende famoso io ovviamente tra l'altro voglio parlarne a partire da alcuni meme visto che ormai siamo eccoli qua questo grande classico per cui bellissimo eccolo qua un veterano di guerra scrive un libro ma la più bella in realtà sulla guerra è questa è veramente perché rende l'idea cioè messa così sembra che Junger fosse un guerra fondata cosa che lo renderebbe anche un po' noioso in realtà Junger sostanzialmente ecco questa è andrebbe girata ma ci siamo sostanzialmente no eccolo qua questo è molto sia Remarca e Junger dicono che la guerra è l'inferno what is hell sì però uno lo dice triste l'altro lo dice sorridendo perché Junger dice non è che dice che la guerra è bella anzi c'è una frase tra l'altro del diario che sostanzialmente in tedesco parla apertamente di si chiede quando avrà fine questa scheisskrieg c'è questa guerra di merda quindi diciamo che sul po però poi ovviamente Tempeste d'acciaio rielabora anche il ma senza nascondere il fatto comunque gli aspetti più tragici più drammatici che però lui quindi lui non è che nega la tragicità della guerra naturalmente gli conferisce però un significato che va oltre infatti non a caso lui diventa per quello che lui diventa c'è molto anche il tema secondo me del diciamo dell'aumano del non umano cioè la guerra davvero in alcune rappresentazioni di Junger sembra spalancare queste dimensioni davvero sì infernali o comunque straordinarie nella prima beh famosa venuta in realtà sul fronte orientale ma la famosa carica dei morti non so se sei presente l'episodio sì 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 per cui e anche quello occidentale diciamo questi meccanismi anche o se vogliamo spostandoci dal diciamo dall'infernale da ciò che è più basso ciò che certi veri e propri inferni e non a caso Tolkien si ispirerà certi paisaggi di Mordor proprio a quella che è la trincea quella che è la terra di nessuno il fango delle paludi morte il fango di Ipr o di Paschendaele oppure appunto sul fronte italiano il sovrumano cioè la guerra tra le vette la guerra condotta cioè qui con dimensioni diverse quasi dimensioni aliene anche anche la ricerca del adesso poi ci arriveremo e questo beh poi anche lo Jünger che è interessante anche qua vedere anche le varie l'evoluzione dello Jünger come come icona pop come materiale memetico no lo Jünger che è popolare perché appunto lui è un veterano pluridecorato uno dei pochissimi ufficiali a ottenere effettivamente questa decorazione altri tra l'altro sono mi sembra sia Manfred con Richthofer che Rommel che quindi non propriamente gli ultimi arrivati perché in genere ovviamente questa onorificenza era riservata ad altri ufficiali generali e sì il fatto che rimane ai margini ma comunque una figura importante per tutto quell'ambiente della resistenza militare antiterranea e poi anche qua accenna in maniera molto ironica il Parigi è una città così bella allo Jünger di 46 anni che è lo Jünger che torna a Parigi questa volta i tedeschi entrano a Parigi come come dandy come dandy di guerra lo Jünger che va a caccia di insetti che frequenta i salotti letterari di Parigi sempre con questa diciamo questa idea un po' ecco cioè lui è l'invasore ma è anche al tempo stesso già uno scrittore comunque noto il il bello è che poi questa popolarità questa popolarità sostanzialmente è qualcosa che di cui lui avrà che andrà a suo vantaggio perché è grazie alla popolarità dello Jünger del periodo francese perché appunto lui può evitare la denazificazione trasferendosi nella zona dell'occupazione francese dove effettivamente essendo un personaggio riconosciuto gode di un'ampia quindi Jünger quanto quanto è stata un'icona già da vivo perché ancora quando poi lo chiamano sulla base della stessa reputazione dello Jünger parigino viene invitato alle celebrazioni di Verdun come proprio una figura in grado di unire Francia e Germania in una celebrazione di questo tipo che aveva proprio l'intento di unire i due antichi nemici della prima e della seconda quindi questo secondo me è un punto interessante questo è molto molto interessante penso come dire potrebbe essere interessante anche proprio fare una ricerca su ad esempio i dati che io in questo momento non ho presente di vendita ad esempio delle sue opere in Germania in Europa nella fase appunto in cui era ancora vivo quello che mi viene in mente possa essere diciamo significativo da riportare come un elemento che ne segnala un certo peso è la frequentazione e il dialogo con figure di grande importanza nella storia e nella cultura perlomeno occidentale questo ovviamente non significa automaticamente che questa rilevanza diciamo in alcuni circoli o in alcuni contesti culturali lo rendesse già una figura famosa al grande pubblico su questo appunto io non saprei esprimermi però oltre diciamo ad alcuni personaggi già citati come Heidegger di cui era amico con cui ha avuto un intenso scambio pistolare con il quale è stato pubblicato quel bellissimo testo che oltre la linea possiamo menzionare tanti altri intellettuali tipo Karl Schmitt Mirce Eliade forse il più grande o uno dei più grandi storici delle religioni del novecento con cui Junger codiresse per 12 anni la rivista Antaios figure che sicuramente frequentò meno ma di cui diciamo in vari contesti ho scoperto la conoscenza come Borges che andò a visitare Junger a Wilflingen e Salvador Dalì che conobbe Junger e sicuramente diciamo una continua ammirazione da parte ecco di un contesto culturale definiamolo anche ancora genericamente conservatore della Germania del secondo dopoguerra dove Junger e peraltro l'altro fratello di Junger Friedrich Georg che in Italia è quasi sconosciuto pure in Germania non è famosissimo ma insieme diciamo rappresentavano comunque secondo dopoguerra due esempi di diciamo di produzione letteraria di testimonianza di vita sicuramente di riferimento quindi e poi oltre a questi intellettuali ci sono invece diciamo personaggi anche più famosi e rilevanti nella vita della società e della politica come ad esempio François Mitterrand che hai citato che diciamo aveva un rapporto non so se possiamo definirlo amicale ma perlomeno di stima verso Junger ricordava di apprezzarne gli iscritti e quindi diciamo ne segnala un certo peso poi Junger ha avuto sicuramente la capacità di riuscire come dire un po' per tutta la vita elaborare pubblicazioni di successo anche qui ripeto non ho dati specifici oggettivi di numeri però diciamo opere importanti le ha scritte un po' per tutta la vita e è riuscito comunque a intercettare l'interesse di molte generazioni di autori ad esempio uno dei primi credo essersene occupato in termini diciamo giornalistici ma di cultura alta è stato Cacciari che mi ricordo scrisse adesso non ricordo se era un articolo o un'intervista ma qualcosa apparso su Repubblica mi pare in relazione a uno degli ultimi viaggi di Junger in Italia e c'era come dire comunque un continuo un costante interesse sì Cacciari lo invitò a Venezia tra le altre cose quando era sindaco erano state erano uscite c'è state anche delle polemiche poi Junger perché chiaramente era stato considerato una figura controversa tra l'altro credo che fosse quel periodo in cui appunto si diceva Cacciari che diventa sindaco di Venezia contro il centro sinistra ufficiale quindi viene contestato a sinistra per una figura come Junger Junger tra l'altro già intervistato in Germania credo nel 83-86 quando Volpi e Gnoli vanno a intervistarlo e tra l'altro anche lì sulla destra tedesca Junger due fratelli Junger non partecipano direttamente ma capofila della noi rete tedesca quindi quel tentativo che anticipa il gress francese cerca sostanzialmente di creare una destra radicale non nazionalsocialista quello di Armin Moller e Armin Moller è stato segretario personale di Junger per diversi anni Moller addirittura si è trasferito in una stanza della casa di Junger a Wittlingen dove viveva con la famiglia lavorando proprio a servizio di Junger quindi anche senza partecipare ha avuto comunque un impatto ma lo stesso si può dire con gli attentatori del 20 luglio cui Junger non era direttamente coinvolto e ad ogni mondo pare che anche lì l'ammirazione di Hitler stesso per i suoi scritti l'abbia salvato nel senso che quanto si dice poi chiaramente qui sono questioni su cui dubito vi siano delle effettive conferme documentali ma pare che appunto Junger abbia cioè Hitler abbia detto che Junger non andava toccato comunque pur sapendo intuendo la sua prossimità e è un contesto quello delle le proprie vendette dopo attentato in cui vengono appunto internati in campi di concentramento anche i parenti dei congiurati quindi Junger viene dimesso dall'esercito perché si sa che comunque ha conti però non sostanzialmente con tutto che anche il figlio ha avuto problemi disciplinari per motivi appunto politici ma rimane sempre comunque in un certo modo e lo stesso vale per il fratello che poco noto ma Friedrich Georg durante la guerra ospita la moglie e il figlio di Nikisch che era stato arrestato quindi beh quello anche perché adesso ritorno all'ultimo meme è quello il classico del il Geffirt per usare un'espressione di quadratura in cui abbiamo tutti questi vari aspetti dal suo dal Junger autoritario di destra quello io odio la democrazia come la peste lo Junger autoritario di sinistra con ma anche lo Junger diciamo libertario di destra qua dice uno degli autori tedeschi più di successo in effetti se noi andiamo a vedere sappiamo che è uno dei pochissimi autori tedeschi che ha assistito già in vita a più di una pubblicazione delle sue opere complete perché il primo è un'opera completa di Junger la Kletkota casa editrice che di fatto fin dagli anni 50 essenzialmente lo segue c'è lo puni pubblica le opere nel 60 e 65 pubblica le sue opere complete in 10 volumi poi quasi 20 anni dopo 78 83 lo ripubblica in 18 volumi perché in frattempo li ha continuato a scrivere non si era fermato e poi ancora credo che l'opera completa viene aggiunta mi sembra forse già ancora negli anni 90 è su un'antologia in 5 volumi e poi ovviamente lo provano comunque è uno dei pochi insieme a Goethe credo autori tedeschi che assiste già in vita a diverse edizioni complete delle sue opere quindi questo vuol dire che qualcuno li comprava se vengono stampate quindi questo sicuramente poi ovvio che non stiamo parlando di un autore che ha vendite ma comunque sicuramente considerando che si trattano anche di generi letterari non propriamente commercializzabili noi abbiamo un assaggio entrambi abbiamo lavorato lavoriamo anche nel mondo editoriale quindi sappiamo bene poi di una realtà asfittica come quella italiana con tutte le sue distorsioni e poi ovviamente anche lo junger libertario di sinistra al di là delle droghe ovviamente anche l'interesse per la natura il e sicuramente da l'idea della complessità del personaggio e rimanendo sul adesso magari facciamo ancora una o due domande vedo che poi junger è un autore che meriterebbe molto di più ma vedo che rispetto a prima mezz'ora c'è stato un po' un calo d'attenzione anche se junger è un autore che si presta anche al ecco una cosa un pochino più curiosa io per esempio conto in senso proprio e le anni massima penso che sia interessante che un autore come junger in generale la riflessione conservatrice in generale più specialmente un autore come junger sia proposto anche quel programma scolastico nel senso che nella filosofia del novecento dove le indicazioni nazionali lasciano un'ampia libertà perché è noto che la filosofia degli ultimi cent'anni è un grande cantiere dove non c'è ancora un canone preciso ben delimitato e junger è un autore che offre la possibilità di affrontare tanti temi diversi anche a seconda di quello che sono poi quello che è l'orientamento anche dell'indirizzo junger un liceo di tipo scientifico consente per esempio di affrontare la questione della tecnica la questione della forma della natura sui studi di entomologia ad esempio così come ovviamente in un liceo più umanistico junger consente appunto per esempio un aggancio con le questioni più politiche non abbiamo citato credo finora il bellissimo libro il nuovo di Gordio con il dialogo tra junger e schmidt per esempio quindi oriente occidente o ancora lo junger esoterista di Antaios per esempio lo junger che comunque conosce e pratica anche i classici greci latini italiani legge Ariosto in trincea quindi secondo me è un autore che e in particolare un diciottenne dovrebbe entrare in contatto con junger come la vedo e offre un grande potenziale didattico specialmente ormai in un contesto dove anche a livello di esame di stato si incentiva la capacità di fare dei collegamenti questo è un punto interessante criticabile o meno rispetto magari un'impostazione del passato più incentrata sulle nozioni sui contenuti rispetto invece ai collegamenti ma sicuramente un autore così poliedrico si presta particolarmente e volevo chiederti tu hai avuto occasione visto che hai avuto diversi tenuto diversi comunque occasioni di corsi per diverse realtà tanto in università quanto anche in realtà private o in Italia è differente comunque di portare Junger in aula sì in primo luogo concordo molto sull'interesse appunto come dire trasversale di questo autore perché secondo me non è diciamo in gioco non c'è semplicemente il fatto che si è occupato di tante cose che già sicuramente colpisce perché abbiamo visto quante siano e quanto distanti ma in Junger c'è questa particolare sensibilità e capacità di riuscire quando si occupa appunto con un determinato approccio o di un singolo dominio di però mettere in campo in quello stesso procedere intellettuale tutte le sue altre competenze quindi c'è questo continuo intarsio questo kaleidoscopio di riferimenti che gli permettono appunto quando ad esempio in avvicinamenti droghe ed ebrezza dedica delle riflessioni a un tema che può sembrare così banale come la birra o il caffè di però intarsiarlo della storia della Germania della sua esperienza biografica dei riferimenti letterari alti al tema delle radici etimologiche dei termini e quindi ha questa visione sintetica della realtà che sicuramente gli deriva in maniera molto decisa dal confronto e dalla passione per Goethe che abbiamo già citato varie volte che diciamo venendo io da studi estetici e un po' da quella tradizione anche molto zecchiana che è stato evocato rimane a mio avviso per quanto come dire per certi aspetti possa risultare magari un autore oggi un po' pesante però rimane davvero come visione metodologica un autore importante come diciamo una possibile alternativa una visione diciamo quella visione analitica deterministica meccanicistica che talvolta tutt'oggi continua un po' a farla da padrone in certi contesti di conoscenza e quindi questo aspetto mi è molto caro e secondo me è molto legato a un altro tema che forse non abbiamo ancora citato e mi piaceva solo accennare che è l'importanza delle figure del mito e del simbolo nell'opera di Junger queste figure sono anche qui trattate da diversi livelli sono dei temi su cui Junger riflette come storico delle idee su cui scrive testi molto significativi ma sono spesso proprio degli strumenti espressivi Junger quando parla di questi dei temi che abbiamo trattato spesso lo fa evocando miti o figure del mito ad esempio tutto il discorso sulla tecnica è legato all'analisi all'interpretazione della figura di Prometeo che diciamo diventa simbolo chiaroscurale delle possibilità e dei pericoli della tecnica così come uno dei suoi testi forse meno noti ma a mio avviso più affascinanti a livello diciamo di scrittura più intimistica è Filemone Bauchi che è un testo in cui lui partendo da una vicenda personale la morte di una coppia di amici in seguito a un incidente aereo diciamo elabora tutta una serie di riflessioni in cui trasfigura diciamo la vicenda di questa coppia nel mito di Filemone Bauchi e questa visione non è un semplice escamotage letterario a mio avviso ma è proprio il tentativo di dare all'uomo moderno degli strumenti per rimitizzare il mondo facendolo però in un modo non puramente come dire passatista ma con la creatività dell'immaginazione letteraria e ecco poi rispondendo brevemente perché non volevo evadere la domanda all'altro tema mi è capitato di parlare di Junger alcune volte all'interno delle mie lezioni in Unitra Edu che è questo progetto accademico online nato diciamo a partire da Unitra Milano ma che essendo online ha un pubblico ormai diciamo nazionale Unitra è l'università delle tre età è un progetto accademico riconosciuto dal ministero dell'istruzione che offre dei corsi diciamo di alta formazione frequentabili da chi ecco da chi desidera appartenente ad ogni età ovviamente diciamo statisticamente la gran parte una parte significativa degli iscritti sono diciamo di età matura spesso pensionati e di questo autore ho potuto parlare sia in almeno un caso in un contesto diciamo di conferenza quindi una relazione specifica sia in qualche lezione di filosofia soprattutto in relazione al tema del nichilismo in cui l'ho proposto il rapporto a Nietzsche Heidegger e mi pare diciamo da quanto ho potuto constatare che susciti un certo fascino forse anche per la sua capacità proprio letteraria ed espressiva anche quando parla di filosofia Junger lo fa con questo linguaggio affascinante evocativo molto immaginifico sicuramente lo rende più appetibile rispetto diciamo a giganti del pensiero però magari un po' più ostici come Heidegger o tanti altri autori del novecento seppure in questo linguaggio così evocativo io trovo spesso una significativa complessità concettuale nel senso che è proprio questo tentativo di utilizzare un linguaggio lirico e in qualche modo capace di tenere conto della sfaccettatura della realtà e del suo carattere non monolitico a volte si presta secondo me a molte interpretazioni a molte riletture questo è un po' il bello ma anche il difficile di questo autore nel senso che non so nella tua esperienza ma se ad esempio nel primo impatto anche da studente io ricordo che il linguaggio heidegariano mi aveva traumatizzato mentre Junger appunto un autore che si riesce a leggere anche al liceo però rileggendolo mentre una volta che mi sono formato alla strumentazione concettuale heidegariana mi pare che in Heidegar quando appunto si conosce come dire il suo linguaggio e le tesi fondamentali della sua opera tutto torni in maniera abbastanza non dico matematica ma diciamo molto sistematica Junger spesso quando mi capita di rileggerlo lascia molti enigmi ecco è più allusivo infatti quello tra l'altro qui ecco una domanda che volevo fare prima ma che diciamo fosse quello l'enigma dei tanti ma quello che mi ha sempre lasciato infatti ho anche cercato di dare una risposta penso di avere anche una risposta dubito che sia vera ma insomma e quindi la rilancio anche a te e sull'interpretazione di sulle scoglieri di marmo aus demarmor klippe chi è il forestaro perché naturalmente c'è la lettura anche abbastanza diciamo immediata che vede il forestaro e Hitler oppure Gehring quindi vede comunque il nazionalsocialismo che conquista la Germania però l'ho sempre trovata in realtà una spiegazione troppo semplicistica onestamente sì anch'io devo dire non ho una una risposta così basata su fonti specifiche però proprio un po' per lo spirito dell'autore che non mi sembra ecco interpretabile con chiavi specificamente diciamo ecco allegoriche come dire io in qualche modo l'ho sempre colto un po' più come una figura se vogliamo usare più un linguaggio quasi biblico religioso come l'avversario cioè come in qualche modo l'incarnazione ecco simbolica di una serie di pericoli di rischi e di come dire anche di malvagità che si incarnano appunto in un personaggio letterario in cui questo tema in qualche modo dell'oppressione dell'antitesi ha delle tinte molto legate al problema della modernità quindi proprio per quel discorso che abbiamo anche già fatto per cui Junger vede tutta questa serie di problematiche legate all'oppressione del singolo da parte diciamo di varie potenze che si sviluppano nella modernità legate appunto alla tecnica ad una strutturazione leviatanica del potere politico questo ai rischi diciamo di uno scientismo che diventa idolatria anziché spirito scettico di ricerca ecco io non ho troppo mai rinvenuto un personaggio specifico ma più appunto il simbolo di questo plesso di problemi però sì ecco la tesi che gira spesso lo lega la figura Hitler dopodiché secondo me diciamo un'interpretazione non esclude l'altra nel senso che io ho sempre cioè secondo me può esserci nelle scoglieri di marmo in realtà secondo me il vero nazionalsocialista è Bachemar perché Bachemar è il è il tradizionalista nichilista cioè è quello che leggendo la contolche è quello che vuole conquistare Sargon con l'anello perché Bachemar è il mauretano che vuole sconfiggere l'altro mauretano ma gli stessi fratelli protagonisti che poi sono visibilmente Ernst e Friedrich Georg sono ex mauretani quindi in quel senso secondo me così come il principe su mira rappresenta alcuni dicono Adam Trott su Solt comunque è la vecchia nobiltà tedesca quindi sono i tentativi di opporsi a il forestaro proprio come potenza elementare da una parte sia una potenza elementare è più un titano che è un satana per certi versi e lo stesso Junger dice che lui piuttosto Reiter pensava una figura un pochino più potente come uno Stalin nel senso proprio come poi Stalin ha questi tratti da anche barbarici nel senso gioviale del terreno e da despota asiatico che invece mancano a una figura come Hitler e che il forestaro invece è anche la risata del forestaro cioè è un poi quel tema del barbarico è uno anche dei temi del nodo di Gordio che prima si 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 tutto il discorso tra l'occidente e l'oriente il forestaro è un babbo natale malvagio per certi versi nel senso con la muta di cani con la la sua castello sostenuta nella foresta il elodino della grande della caccia selvaggia anche per certi versi quindi si non è non è un satana biblico ecco nel senso però appunto questa è una mia interpretazione ecco non è detto che non è neanche detto che ci sia un'interpretazione effettiva però appunto quello è un enigma che spinge perché poi è un libro anche a mio parere interessante e ne parlerò adesso sto rivedendo i miei scritti sulle buzioni conservatrice in particolare in relazione al nazionalsocialismo e sicuramente ci sarà un capitolo sulle scoglieri di Marlott è veramente un testo che occupa un ruolo importante nel rapporto proprio tra la luce conservatrice proprio come corrente di pensiero e il regime di per sé non a caso esce nel 39 prima che effettivamente si arrivi a la tempesta secondo me era mondiale ma quando già era percepita come imminente però questo non è l'unico dei tanti enigmi che troviamo nell'opera di Junger Junger che abbiamo detto prima facevo l'accenno allo Junger scienziato filosofo della scena naturalista ma anche lo Junger mitografo per esempio ha detto bene ha fatto bene a ricordarlo penso c'è una bella citazione per esempio sempre di Junger quando parlando di Nietzsche dice Nietzsche è un gigante che vive già nel ventunesimo secolo nell'era dei titani e quindi anche il nono di Gordio altra immagine mitica anche il in generale lo Junger così tedesco ma anche come tutti i tedeschi affascinato dal Mediterraneo quindi io chiuderei diciamo l'ultima poi se vediamo se ci sono anche domande quello vediamo rispondiamo volentieri ma per ritornare a noi io parlerei proporrei come ultimo tema diciamo un po' quello di Junger e l'Italia perché poi Junger viaggia in Italia e i tedeschi sappiamo che con l'Italia hanno sempre l'Italia vista come anche come antiprima della Grecia per certi versi quindi un Goethe che scende fino in Sicilia un Hofmannstahl che scrive il viaggio in Sicilia io adesso altro progetto letterario diciamo sulla mia scoperta della Sicilia come terra che rimanda necessariamente almeno nel mio caso a questi autori tedeschi e anche Junger appunto ha un Sireca in Sicilia per esempio visita la Sardegna quindi anche un'attrazione per la terra del mito per il Mediterraneo e Junger in Italia in generale comunque ha un Sireca diverse volte c'è tutta la storia delle scoglieri di marmo di Carrara dove un tema molto importante perché anche qui c'è come dicevi bene una radice culturale che la passione di una certa elite culturale tedesca per l'Italia il tema del Grand Tour proprio il simbolo se si vuole in Junger di Goethe che scopre così vuole diciamo un po' la sua biografia intuisce l'idea centrale poi nel suo testo la metamorfosi delle piante della Urb Flans della pianta originaria nel giardino botanico di Palermo e quindi un Goetheano come Junger non poteva diciamo non cogliere questa intima connessione fra la forza vivificante del Mediterraneo e le possibilità di sviluppare anche un pensiero diciamo all'altezza e poi c'è l'aspetto più biografico e anche di sofferenza legato all'episodio che stavi menzionando ossia il fatto che il figlio di Jung Erstell così era chiamato partecipò a un scontro militare proprio nei pressi di Massa Carrara vicino alle cave di Marmo e lì trovò la morte pare che diciamo la proprio la diciamo l'ostilità jungheriana al regime nazista che come ricordato non poteva diciamo rivalersi direttamente su Junger non abbia diciamo questo è difficile da dimostrare ma sicuramente non abbia voluto tutelare più di tanto il figlio dell'autore che pare sia stato diciamo mandato in prima linea in una battaglia che abbastanza prevedibilmente avrebbe fatto molti morti e Junger andò a diciamo dopo la triste notizia si recò in quelle terre e diciamo per dare sepoltura al figlio e fu aiutato in questa impresa da un grande giornalista intellettuale italiano che è Marcello Staglieno genovese che era in rapporti di amicizia di collaborazione con Junger successivamente Junger si impegnò come appunto ricordavi in diversi viaggi invece di diciamo di piacere di ricerca naturalistica forse più fruttuosi dal punto di vista letterario furono quelli in Sardegna cui Junger dedicò molte pagine dei suoi diari questi scritti sono stati fra l'altro pubblicati in italiano in dei volumetti diciamo autonomi l'ultimo uscito mi parla nel 2021 ha come titolo la grande madre e racconta di il ritorno di Junger in Sardegna nel 1955 in queste in queste esperienze Junger che ricordo era particolarmente affascinato fra i vari luoghi che visitò in Sardegna da Villa Simius una località della Sardegna meridionale vede una realtà particolarmente antica da un punto di vista simbolico e metamorfico nel senso appunto di Goethe cioè Junger spesso utilizza nelle sue opere delle metafore legate a immagini geologiche l'idea che la terra sia in qualche modo uno spazio vivo che le civiltà questo è molto spengleriano siano appunto organismi viventi e c'è una faccia diciamo geologica della terra che l'uomo scientista dimentica e che invece è una fonte di conoscenza di sapienza importante e nella Sardegna negli spazi fisici geografici ma anche nelle architetture i nuraghi nei volti delle persone Junger rimane colpito da questa antichità che gli pare di scorgere ovviamente un'antichità che in parte è documentata anche dalla archeologicamente datata civiltà nuragica ma che Junger appunto in qualche modo intuisce proprio nelle forme della natura degli spazi che gli si presentano e questo questo si lega anche all'interesse che Junger via via sempre più matura nei confronti della figura simbolica della terra di Gea intesa non in un senso come dire necessariamente pagano ma come quella natura viva da cui nascono le forme che è madre è custode dell'uomo è il suo focolare e nel Mediterraneo e anche in alcuni riferimenti che scopre in Sardegna ad esempio legati a culti femminili antichi Junger vede questa forte sensibilità nei confronti di questo principio del femminino inteso non in un senso però come dire afroditico ma appunto materno che è quello spirito tellurico cui Junger guarda spesso come un'alternativa diciamo tanto al mondo simbolico diciamo degli dei olimpici che vede ormai tramontati quanto invece all'avvento di quel l'orizzonte della tecnica secolarizzata che sarà il regno dei titani e questa in questa visione della Sardegna Junger arriva ad affermare ecco questa frase che mi ero appuntato molto bella ovunque la terra è sacra ovunque è un sepolcro ovunque è luogo di risurrezione ovviamente appunto in termini molto poetici molto enigmatici ma identificando ecco questa vitalità e solarità del mondo mediterraneo un possibile luogo di svelamento di epifanie di cui lui andava in cerca ecco in quegli anni come anche sproni alla sua scrittura diaristica e letteraria beh ma poi cito direttamente dei viaggi in Sicilia tra l'altro questo è uno di quelli lui se non sbaglio uno dei viaggi interessanti lo fa nel inizio fine anni 20 inizio anni 30 credo quando va a lavorare anche presso l'orto botanico di Palermo poi tornerà più avanti diciamo dopo negli anni 80 invitato anche a Tarumina però il viaggio quello il primo lui scrive e questa è una bella fa riferimento proprio alla metafora geologica dicevi l'isola è una gemma il cui castone è stato cesellato da tutte le potenze che volta a volta la possedettero ma è soprattutto la vicinanza dell'Africa ad esercitare l'influenza dominante la pura forza di gravità del misterioso continente interessa il paesaggio come la luna e il flusso delle maree nelle piante negli animali e nelle rocce nei panorami nelle prospettive nei gesti nelle teste nei volti degli uomini nei costumi nelle forme nei valori si esprime il connubio africano il respiro dei deserti e delle oasi la magica sfera d'azione della grande potenza solare perciò non è un caso se si è combattuto tanto spesso per il dominio di quest'isola posta mezzo tra Europa e Africa così come per le isole dell'Egeo tra Europa e Asia quindi è chiaro che insomma diciamo c'è questo fascino che ha maggior ragione ecco forse tra l'altro io credo che forse mi sembra l'unica cosa che io abbia pubblicato su Antares fu proprio un articolo su Spengler in Italia non so se appunto Junger quando parla di Italia parla o meglio lui ha in mente la terra del mito ha in mente la terra su scrivere cose bellissime perché come un'ampia parte cioè tutti i grandi intellettuali tedeschi alla fine sono fortemente debitori alla Grecia a Roma a questa realtà primordiale prima ancora che classica Nietzsche è un caso Ghiette insomma tutti casi eclatanti di questo tipo mentre invece sull'Italia recente come anche un Ghiette ha meno cose da dire c'è qualcosa che è meno però questa forse più l'impressione perché ripeto io non ho letto tutto quello che Junger ha scritto sono comunque diciamo forse un particolare per completare questo discorso è che però in nell'ultimo viaggio mi pare che Junger fece in Italia che fu proprio a Venezia Junger ricordo che frequentò diciamo visitò la Biennale e c'è un riferimento adesso non ricordo la collocazione esatta ma nei suoi diari a questo episodio e diciamo fornì ecco qualche spunto molto sintetico e come dire lirico interpretando come dire alcuni esempi di arte contemporanea come segni dell'incedere di quella nuova appunto era dell'operaio e dei titani di cui lui parlava quindi questo diciamo è interessante perché denota perlomeno una certa curiosità intellettuale in un signore che all'epoca insomma era più o meno centenario però sicuramente sì a parte questo esempio che mi viene in mente la sua attenzione fu diciamo più in fase giovanile poi matura e soprattutto legata più al mondo appunto della natura o di alcune forme diciamo dell'antichità dell'archeologia dell'architettura più che diciamo a temi di attualità ecco sì l'intervista ecco qua la c'è sul ebbè è stato il nostro comune amico Andrea sul blog del giornale riporta ampi stralci compresa l'intervista dei primi di giugno del 93 proprio in occasione della biennale edo qui era stato invitato da Bonito Achille Bonitoliva quindi in cui tra le altre cose lui commenta insomma in realtà dell'Italia parla quasi nulla riprende e punto particolarmente interessante quando lui ormai è a 98 anni e dice ma sì mi sono interessato poco a Francis Bacon colmerò certamente questa lacuna ecco dice sì non si pone il problema del fatto di avere ormai raggiunto l'età guardevole ma rimane sempre pronto ad imparare un forte ottimismo sì questo sicuramente è un vabbè è un punto interessante quindi però appunto lui da questo punto di vista rimane profondamente ma come tutti questo Spengler stesso diceva che i autori i grandi autori del passato sono universali nella misura in cui sono fortemente radicati nel proprio contesto di origine e quindi Junger riesce a parlare a tutti proprio perché è radicalmente tedesco ecco non differenza magari da un autore del tutto cosmopolita che ti racconta in realtà soprattutto oggi non ti dice nulla di nuovo rispetto a una realtà di plastica o virtuale che noi ci troviamo a vivere il nostro malgrado quindi va bene adesso non voglio si lega secondo me questa nota così di colore però ha un ottimismo di fondo che si può trovare nell'opera di Junger e ha come dire anche delle giustificazioni metafisiche piuttosto serie che trova ad esempio molte spiegazioni in Al muro del tempo che è una delle sue opere più belle del 1959 in cui ricordo alcuni passaggi molto potenti in cui Junger come dire pur con il suo sguardo di primo acchito realista per nulla indulgente ecco verso vane speranze invita però a guardare come dire al carattere di alla dimensione di bellezza e di donazione del mondo questa idea che il mondo che il cosmo al di là della prospettiva specificamente religiosa che si adotti ma è un luogo di manifestazione di bellezza di donazione di senso e che diciamo l'uomo che si sintonizza con questa dimensione riesce in qualche modo a trovare un senso e una bellezza appunto anche nei momenti di difficoltà di pressione e di oppressione in questo senso è un autore forse che anche diciamo alla lettura risulta più rinfrancante ecco rispetto magari ad altri giganti altrettanto interessanti ma più come dire più cupi o più mestie un po' alla Spengler che pure diciamo non è un autore in sé per sé pessimistico però sì non è l'atmosfera un po' più per essere realisti bisogna essere pessimisti ecco non è non si lagna ma ha un mentre invece Jung dicevo all'inizio il fascino deriva anche dal fatto questo è uno scrittore apollineo di fatto e sempre mostra anche una certa serenità davanti agli eventi attraversa un secolo terribile come il novecento al di là che qualcuno oggi una collega lo definiva un secolo sopravvalutato quantomeno dal punto di vista letterario insomma è il secolo di Céline è il secolo di Pound del secolo insomma potrei citarne dozzine di autori che sicuramente non meritano di essere definiti sopravvalutati ecco non fosse altro perché comunque noi viviamo ancora fresco e vivono la nostra card e Junger diciamo che presenta degli strumenti ci offre delle visioni delle prospettive sul futuro illuminanti senza senza assumere toni sguaiati senza diciamo spacciarsi per profeta o di sciagure o di venditore di sogni questo è un aspetto appunto che sicuramente rimane molto attuale anche proprio Junger come stile e non soltanto come contenuti quindi con questa io passerei se non ci sono domande ma vedo che abbiamo ricevuto un po' di saluti da qualcuno anzi anticipatamente io spero che ecco spero che Stefania abbia potuto seguirci però in ogni caso il video rimane anche dopo la fine della diretta rimane ovviamente sul canale punto e virga quindi invito tutti dall'altro a seguirlo in particolare adesso diciamo i miei sforzi sono in gran parte assorbiti dai video didattici non mancherà anche un breve video su Junger per le scuole quindi una decina di minuti qui faccio un quadro di questo autore visto che non è un autore che normalmente si studia erroneamente a mio parere e anche dirette come questa adesso annunciamo che tra marzo aprile sono probabilmente ci sarà sicuramente ecco già mese prossimo ce ne sarà una come ho già anticipato su Dante a rivoluzionario reazionario che sicuramente ci offrirà il destro di vedere che cosa c'è di vero o di falso certe buttade ministeriali così come tra altre cose non dimentichiamo ecco si parlava del forestaro ma ci sono personaggi non meno sul furei ricorre ad aprile il decimo anniversario per esempio della morte di Margaret Thatcher si non è l'argomento che uno si aspetterebbe di vedere su questo canale e infatti questo è un buon motivo per parlarne quindi vi invito tutti se non avete ancora fatto ovviamente a seguire questo canale ovviamente iscrivendosi e anche attivando le notifiche insomma queste cose pubblicitarie le conoscete meglio di me se c'è una cosa che non mi piace proprio e dover fare la reclame quindi comunque è il tuo aspetto da jungeriano libertario di destra ma sì voglio dire insomma non di meno insomma manca pochissimo per arrivare a 500 iscritti quindi almeno per amor di di perfezione numerica invitate amici parenti conoscenti in modo da arrivare prima possibile a questa cifra tonda e noi ci rivedremo comunque in una prossima diretta ci sono diversi altre opzioni diversi ospiti che attendono ancora più attendo ancora una risposta quindi sicuramente non ci annoieremo e il tempo stesso ovviamente per chi vuole magari approfondire o meglio riprendere in mano o ripassare certi argomenti che magari nei tempi della scuola non vedrà più non mancheranno anche diciamo approcci video di taglio più didattico e più sintetico va bene grazie ancora Luca tra l'altro per il tuo intervento ma insomma è un autore che meritava del poco che possiamo fare rispetto alla grandezza di Noe Jung certo quindi sono io che ti ringrazio appunto ancora per il coinvolgimento ringrazio anche il nostro pubblico per la pazienza chi vorrà potrà appunto rivedere o terminare il filmato più avanti quindi speriamo che sia diciamo un piccolo contributo appunto alla diffusione dell'interesse verso questo autore così che per me ma so anche per te ha contato molto nella nostra formazione proprio perché anche al di là degli aspetti banalmente l'anno a nascita la morte eccetera eccetera ci ha offerto possibilità di andare a vedere alcuni punti alcuni squarci effettivi sulla sua vita sulla sua opera va bene grazie a tutti per averci seguiti fin qui ci vedremo alla prossima diretta di Puntevirga oppure seguendo i video che saranno caricati nei prossimi giorni buona serata a tutti buona serata grazie a tutti